La Chiesa deve essere umile, povera e fiduciosa nel Signore. Lo ha indicato Papa Francesco nella Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, sottolineando che la povertà è la prima delle beatitudini e che la vera ricchezza della Chiesa sono i poveri, non i soldi o il potere mondano. Il Papa ha preso spunto dal Vangelo di oggi, nel quale Gesù rimprovera i capi dei sacerdoti e li avverte che perfino le prostitute li precederanno nel Regno dei Cieli, per mettere in guardia dalle tentazioni che pure oggi possono corrompere la testimonianza della Chiesa. Dov'è la mia fiducia? Nel potere, negli amici, nei soldi, nel Signore. Questa è la eredità che ci promette il Signore, lascerò immesso a te un popolo umile e povero, confiderà nel nome del Signore. Umile perché si sente pecatore, povero perché il suo cuore è attaccato alle ricchezze di Dio e se ne ha è per amministrarle. Fiducioso nel Signore perché sa che soltanto il Signore può garantire una cosa chi li faccia bene. È davvero che questi capi sacerdoti, ai quali si rivolgeva Gesù, non capivano queste cose. E Gesù ha dovuto dirgli che una prostituta entrerà prima di loro nel Regno dei Cieli. Grazie. 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 Grazie.